Il principale mezzo attraverso il quale si deve da un lato contrastare la dispersione scolastica e dall'altro lato mettere perfettamente a conoscenza dei nostri ragazzi e delle famiglie quali sono i vari percorsi professionali e scolastici che possono indirizzare il futuro dei ragazzi sia fondamentale. Questa è una bellissima iniziativa, io la pensai quando ero assessore alla formazione e al lavoro in provincia di Compo, è cresciuta, è cresciuta molto, adesso da assessore all'università di questa regione ho voluto cercare di dare ancora un po' di benzina affinché possa diventare veramente una fiera dell'orientamento di carattere regionale. In questi mesi ci abbiamo lavorato, parteciperanno tutte le università lombarde in cui non solo verranno con i loro stand ma porteranno anche delle iniziative concrete, abbiamo cercato di individuare il tema, abbiamo individuato quello dell'intelligenza artificiale per cui costruiremo un momento molto bello con i ragazzi in cui già porteremo i lavori di ricerca fatti dalle università sul tema dell'intelligenza artificiale, ma non portando lo studio ma portando quello che quel lavoro ha portato per far vedere già oggi le università dove sono. Credo nell'orientamento, credo che il pubblico debba fare una parte di orientamento, poi ci vuole ovviamente il concorso delle scuole, il concorso delle famiglie perché abbiamo la necessità di far capire ragazzi quante figure professionali oggi il mondo del lavoro cerca e che non trova. È un motivo di orgoglio lo IANG in questa versione che vede presente tutte le università lombarde, un motivo di orgoglio anche per il territorio lecchese, i luoghi dell'orientamento sono particolarmente importanti, ne sappiamo qualcosa noi sul nostro territorio dove il mismatch tra domanda e offerta è sempre più grande ma dove è sempre anche più grande l'impegno di Regione Lombardia per cercare di colmarlo. IANG è il salone di orientamento che permette ai genitori di spendere i loro soldi per i figli in un investimento vero, corretto e giusto perché gli dà le informazioni, in particolare con questo sviluppo legato all'università che viene consolidato e confermato dalla presenza dell'assessorato regionale con Alessandro Fermi permette veramente di arrivare a capire un po' di più. Sono presenti tutte le università lombarde, da quelle tecniche come il Politecnico di Milano all'Università del Turismo per rimanere sempre in un tema molto comasco che è l'Insubria, però sono veramente presenti tutte le università, quindi l'investimento delle famiglie e sui loro ragazzi ha bisogno di informazioni per non sbagliare, l'informazione è la base e qui in IANG puoi trovare tutte le informazioni sia che tu sia di Comolecco ma anche di Lodi piuttosto che di Mantua, è facilmente raggiungibile, è un'ottima occasione.